ma l'acqua come fa a salire di tanto così, Filippo? è solo il vasco, carica la barca e la deposita giù la ghiacca pesa 300 tonnellate a vuoto e può contenere circa 600 tonnellate di acqua quantità dipende dalla pressione di salita e di sceglia il carro vasco adesso questo qui si posiziona a 20 cm più in basso del canale e aprono la chiusa spesi, 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 spesi nel questo momento, non si può essere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.